Fabio, grazie per chiederti e ringrazio per il vostro primo Lakenway in vittoria. Però diciamo che una vittoria ci fa affrontare la partita di martedì un pochino più vogliosi e un pochino più entusiasta. Questa partita ha fatto vedere quanto Cox è importante per la squadra e per il club. Pensi che Cox rimarrà a Leighton Orient dopo il mercato di gennaio? Questo non lo so se lui rimarrà qua. Per rimanere qui bisogna voler stare qui. Lui è qui da tanti anni, il pubblico lo ama. La possibilità che lui possa rimanere o no la sceglierà principalmente lui. Noi siamo contenti di Cox, siamo contenti di tutti i giocatori che stiamo recuperando. Io dal primo giorno ho sempre detto che una volta recuperato tutti gli infortunati, che erano 9, oggi abbiamo recuperato Monei e Lisbeth in panchina. Piano piano questa squadra secondo me ha una rosa buona. Si può migliorare sempre. Però penso che abbia una rosa che per quest'anno possa garantire un campionato sicuramente migliore. E dobbiamo lavorare proprio per questo. Cox è stato qui per molti anni. Le persone lo amano, noi lo amiamo come giocatore. Quindi il fatto che non resta o non resta, dipende da lui. E questo non solo per Cox, ma anche per gli altri giocatori. Quindi crediamo nella nostra squadra e vogliamo che il giocatore resta. Questa è solo per il giocatore, ma anche per i altri giocatori che vogliono stare. Ma non è che vogliono stare. Questa è un giocatore. Questa è un giocatore. Questa è un giocatore.